Lucian rappresenterà per tutti l'origine della razza. Un'intera stirpe ridotta in schiavitù per vigilare sul regno dei non morti. Lascia che ti dica una cosa. Sul tuo amato padre delle tenebre, è stato lui uccidere la tua famiglia. Hai infranto la mia legge nonostante ti abbia donato la vita. Oggi i privilegi di cui godivi sono finiti. Ogni uomo che combatterà con me avrà la sua libertà e, se lo desidera, l'immortalità. Per il ciclo Fantastique Underworld La ribellione dei Likaz. Lunedì alle 21 su cielo.